Dove poggia le membra, faccia attenzione. È un attimo, è un attimo, è un attimo e tutto diventerebbe fatale e irreversibile. Sono dappertutto, Paolo. Certo. No, ma proprio tanti. Faccia attenzione a dove mette i piedi. Oddio. E attenta le spalle. Guardi dove mette i piedi. Come vede, si muovono perché sono irritati dalla sua presenza e loro difendono lo scettro. Ci stanno proprio sotto. Faccia piano. Vede che saltano. È tipico del rosco il balzo. Che fa? Non lo so, non voglio essere scortese. Prego. Non voglio essere scortese. Non deve esserlo. Allora, attenzione. Con calma, con calma. Che fa? Che fa? Fa confidenza. Sì. Faccia attenzione. Oh. Oh, no. Perché ha preso una tibia? No, 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 è una tibia. Eh? Non sapevo che fosse una tibia. Eh, scusi, hanno provato altri e purtroppo ha visto come sono finiti, no? È uno scettro, è questo? È lo scettro tibiato, certo. Adesso esca da lì. Non tornando indietro, i batracci non lo sopportano. Non lo so. Andando avanti. Qua? Sì. E ora entriamo nella prova più difficile. Sì. 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 Sì.